Ok, io sento un po' che non riesci a fare girare bene le note perché il suono rimane un po' troppo, un po' lontano, cerca di mandarlo un po' più avanti, più su, creare un po' questo movimento della laringe che si abbassa da qua. Allora, adesso... Terza nota per girare, questa qua, questa qua, devi sentire piccolo. Sentire piccolo e fare come... come se il laringe... Ah, 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 ah... E' sempre pericoloso perché la seconda nota è... qua dietro... in sostanza quando tu non fai la A giusta è perché il diaframma non scende quando la tua A non è dietro e avanti vuol dire che il diaframma è sceso quindi quando tu canti devi sempre cercare di mandare avanti il suono in maschera appoggiando, non spingendo appoggiando di più non perde però quando scendi perché quando scendi devi mantenere sempre la stessa posizione di fonazione avanti non si sperde perché quando tu fai quella nota consumi troppo fiato devi imparare lo fai con il portamento per adesso ci vai così allora riesci a capire come fare perché altrimenti fai che cosa vuol dire che cosa vuol dire controlla bene tutte e tre le le vocali le prime tre devi controllarle che rimangono sempre il sono diventa molto più bello molto più come dire armonico no se lo appoggi bene la vocale a col fiato col fiato vuol dire che il tuo paloncino diaframma fatta rirara rirara non do oh 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 Sì, 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 sì. sempre le prime due devi portare avanti adesso non stai facendo più quello che abbiamo fatto prima devi stare bella adesso io faccio lungo per farti capire però tu non devi allungare troppo perché se allunghi troppo succede questo capisci il vocalismo si fa così per fare in modo che diventa il nome dobbiamo cercare di non fare pesanti questi vocalisti capisci una volta che hai imparato a fare queste A tutte quante appoggiate devi elasticizzare tutto quindi non fare diventa brutto sia per il diaframma perché comincia a ballare un pochettino e poi non trovi la ruota la ruota è una cosa che ti come se tu stai girando e non c'è bisogno di fermarti invece quando ti fermi sembra più pesante diventa un po' grazie a tutti grazie a tutti